Giovanni Irrera, chi era? Giovanni Irrera non era nessuno, come tale è morto. Comincia così la lettera che Don Alessandro Fortunati, parrocoliacqua sparta nel Ternano, ha scritto per ricordare una vittima della solitudine e dell'indifferenza. Giovanni viveva ed è morto dietro queste finestre, a pochi passi dalla chiesa. Giovanni si era trasferito qui nel marzo dello scorso anno e le prime persone con le quali ha avuto dei contatti siamo stati noi della parrocchia, soprattutto la Caritas parrocchiale, abbiamo allestito casa con i mobili, con quello di cui aveva bisogno, veniva settimanalmente circa ogni 15 giorni alla Caritas per i suoi piccoli bisogni. Giovanni cercava in paese dei lavoretti per arrotondare i 300 euro di pensione con cui tirava avanti. Andava in su e in giù per il corso con quel suo giacchettone di pile e il berretto di lana, la barba non curata, il passo stanco, lo sguardo di chi non ha grandi motivi per vivere. A fine novembre aveva detto che doveva andare a trovare sua sorella a Bologna e forse per questo nessuno si è preoccupato di non vederlo più in giro, fino a che sabato scorso lo hanno trovato privo di vita da almeno un mese. Il biglietto del treno per Bologna era rimasto sul tavolo di casa. Il suo corpo abbandonato sul letto è restato d'acqua sparta, mentre la sua anima è stata portata dagli angeli in cielo, come quella del povero Lazzaro del Vangelo. Spontaneo è nato in Don Alessandro il bisogno di coinvolgere la comunità di Acqua Sparta, che si sta facendo carico delle spese e delle inconvenze per le sequie, in un ultimo messaggio per Giovanni. Vorrei chiedere innanzitutto perdono a Giovanni a nome di tutti, a nome di quelli che non lo hanno mai salutato, a nome di quelli che hanno pensato male di lui, a nome di chi non gli ha dato delle opportunità. Abbiamo deciso di intitolare la carica sparrocchiale lui, non perché sia un eroe o abbia avuto dei grandi meriti, ma proprio perché forse la vera povertà di questi tempi è la solitudine. Giovanni è il simbolo della solitudine, vorremmo che la sua vita almeno riacquistasse più valore anche a causa della sua morte.